I disagi ci sono, non enormi, stiamo vigilando, mi segnalano dalla polizia stradale ogni mezz'ora la situazione. Direi, ritorno a dire, era veramente meglio evitare anche perché poi vedete che al di là dei disagi veri e propri, dopo di che su questo momento di Milano anche tanti vostri colleghi segnalano come questo sciopero appunto viene un po' male. Detto ciò, guardiamoci avanti, il dialogo con le forze sindacali va avanti, già da oggi pomeriggio ci si risentirà perché sul futuro di ATM non è che sono interessati solamente le forze sindacali e i lavoratori, ovviamente siamo molto interessati anche noi e vogliamo però fare le cose per bene al momento giusto. Il punto è che adesso non è il momento per fare nulla.